Ciao a tutti ragazzi, sono SashtepitCuber e oggi abbiamo il tutorial per come fare sub 10 con il 2x2 Adesso ho preso uno scramble ufficiale della CS Timer e vi faccio vedere come si fa Così è un metodo molto facile per fare sub 10 con il 2x2 Adesso vi faccio vedere un altro esempio Praticamente dovete solo girare velocemente Ok, questo è perché lo scriviamo facili Fate una faccia, poi fate questo, poi potete anche fare l'oll E poi potete anche fare il pbl, però è meglio fare un cll Potete fare questo e aspettare un po' e fare comunque sub 10 Adesso facciamo un altro solve Solo, ok, un altro esempio, una solve un po' più difficile Quindi dobbiamo sbagliare di fare la faccia Poi orientarla insieme all'altra E poi fare questo, stoppare, girarci intorno una volta Poi tornare e stoppare il timer Sub 10 ragazzi Perché tutti questi bimbi mi stanno scrivendo Come faccio fare sub 10 con il 2x2 E poi sul tutorial Fate una faccia Lento, lento Fate la seconda Fate pbl E ciao ciao Ok, ultima solve Solo per farvelo vedere Lo farò anche con una mano Anche se faccio schifo con l'OH Ok, dai vaffan Fate il bimbi Così, così Prego Ed eccomi Stoppare il cd media Con il 2x2 Grazie